Il vincitore del Re della Pizza 2018 qui a Piacenza e nel suo territorio è la pizzeria Semmi! Un applauso che va a bissare il successo di due anni fa? Sì, giusto, due anni fa. Grazie a tutti, grazie a quelli che mi ha votato e a quelli che è stato contro di me, grazie. E ancora la pizzeria Semmi di Cotrebbia ad aggiudicarsi il titolo di Re della Pizza. Oltre 101.000 italiani che hanno consentito a Luigi Mazziotti di bissare il successo del 2016. Prima del brusco calo di temperatura, Piazza Duomo si è riscaldata con la serata finale del gioco di Editoriale Libertà. A condurre l'evento il giornalista Marcello Tassi, a fare gli onori di casa la presidente Donatella Ronconi. Ringrazio anche tutta la gente che ha partecipato, che ha votato e questo è un grande successo di pubblico. Regina Margherita e l'arte della pizza a 360 gradi hanno completato il podio per una graduatoria che ha messo in evidenza ancora una volta il successo del gioco di libertà sostenuto dall'Unione Commercianti, cui hanno partecipato migliaia di piacentini. La serata è stata animata dalla musica dei tasti neri. Le emozioni dell'evento saranno riproposte domani, prima sul quotidiano Libertà con articoli e foto, mentre in serata dalle 20.05 anche su Tele Libertà con le immagini del Re della Pizza 2018. Grazie per la visione!